Il contesto in cui tutti operiamo è in continuo cambiamento e di conseguenza anche Ninja in continua evoluzione e così i nostri corsi e master. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato ad una completa riconfigurazione della nostra offerta formativa. Il nuovo modello didattico prevede lo studio delle migliori fonti autorevoli nazionali e internazionali, il confronto costante con i maggiori esperti della industry e un aggiornamento continuo su tool, algoritmi e comportamenti del consumatore. La produzione segue i principi dell'instructional design e utilizza storyboard, script e shooting professionali per creare corsi più belli, immersivi e divertenti. Abbiamo creato i migliori corsi Ninja di sempre realizzando una nuova user experience che ti lascerà a bocca aperta. I corsi sono diventati dei veri e propri brand con una loro identità grafica specifica. Questo per farti assaporare ogni corso come se fosse una nuova gratificante esperienza, come se fossero dei film su Netflix. Ma c'è di più, i corsi Ninja Academy da questo momento non sono più dei semplici video, ma delle vere e proprie esperienze interattive, belle e divertenti oltre che utili. Non vedrai l'ora di cimentarti nelle esercitazioni e di scoprire tutti i contenuti che il nostro team prodotto ha predisposto per te. Test, infografiche, video, template, articoli e speciali modelli operativi originali detti canvas che ti serviranno a mettere subito in pratica le nozioni che hai appreso. Le esperienze sotto forma di interviste ai migliori professionisti e consulenti e top manager ti daranno il punto di vista e gli insight dei veri protagonisti della industry e se lo vorrai potrai aumentare la tua esperienza didattica confrontandoti con i migliori tutor Ninja Academy che ti daranno il loro supporto per correggere le esercitazioni che troverai in ogni corso. Insomma, abbiamo rinnovato la nostra missione e ti facciamo una nuova promessa. Studiare con Ninja Academy sarà la migliore esperienza didattica possibile sul mercato. Apprenderai con piacere ai livelli delle grandi business school ma un investimento accessibile. E ricorda, ogni corso e master che farai con Ninja Academy sarà un tesoretto che metti nel tuo forziere. Niente andrà perso perché potrai sommare corsi e master del nuovo catalogo Ninja Academy fino ad ottenere il prezioso certificato in titolo, quello di Executive Master, che fa davvero la differenza e che insieme alle reali competenze che avrai acquisito grazie allo studio e alla pratica farà di te il professionista che hai sempre voluto essere.